Il prefetto di Chieti e tutti i sindaci della provincia a basso per il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Vediamo con Berardo Aurini. Vasto, terra di confine, città da sempre attenzionata per il rischio di infiltrazioni malavitose, si ritrova in questi ultimi tempi a fare i conti con un preoccupante aumento dei reati, furti e altri episodi più o meno inquietanti. Due attentati incendiari, uno dei quali contro l'auto del sindaco Francesco Menna, che dal canto suo ribadisce l'intenzione di non farsi intimidire in alcun modo. Invito chiunque a recarsi qui al mio ufficio per parlare, per dialogare, per trovare insieme le soluzioni. La legalità non ha compromessi, non si baratta. Le battaglie che continueranno a fare contro l'abusivismo, gli abusi, diciamo tutto ciò che esce fuori dai binari della legalità, continuerà in perterrita. Il primo cittadino vastese, nello spendere un plauso all'incessante lavoro delle forze dell'ordine, auspica comunque un potenziamento delle risorse umane, anche nelle aule di Palazzo di Giustizia. La sicurezza è legata alla persistenza e all'esistenza del Tribunale e della Procura della Repubblica. È importante che ci sia, venga concepita quanto prima una norma che faccia sì che la Procura rimanga a vasto. Il prefetto di Chieti, Mario della Cioppa, tiene comunque a sottolineare che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato a vasto, che ha visto la partecipazione di tutti i sindaci del comprensorio, è solo il primo passo di un'azione mirata alla tutela dell'intera provincia. Abbiamo iniziato proprio da vasto, fuori dalla sede naturale del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, che è la Prefettura, proprio per dimostrare la sensibilità e l'attenzione che lo Stato dimostra a quest'area del territorio e per incontrare anche i sindaci del comprensorio. Grazie. Grazie.